Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video Siamo qui in un nuovissimo video dei miei amici ormai fedelissimi di Ludo Stack che mi hanno mandato altre 4 stavolta 4 ragazzi, 4 mi devutete, solo 4 a parte gli scherzi mi hanno mandato l'altra categoria di cuffie queste sono le Turbo presente sempre l'arancione siete dei grandi per l'arancione, lo sapete quanto mi piace argento blu, è un nero blu questo? è un nero, scherzato è nero e ovviamente il rosa ragazzi il rosa ormai in questo canale, il rosa è il rosa fantastico, andiamo pure in alto, si, bellissimo ragazzi queste cuffie costano circa 14 euro su Amazon, link in descrizione al cedro, lo sapete e quello che hanno di particolare diverso dalle altre ovviamente si sentono sempre bene che hanno la gommina che piace tanto a me che il cavo è telato, che il attacco jack è placato in oro ma questo ce lo sapete quello che hanno di diverso dalle altre è questa particolarità sono ergonomiche infatti il padiglione è piegato questo cosa permette? questo permette semplicemente che una volta indossate sono molto molto più comode ora io le vado a mettere guardate ok vedo già un'altra particolarità ok, le metto così ok in questo momento a parte che non sento assolutamente niente adesso ormai lo sappiamo la qualità sono di qualità qui abbiamo un regolatore per il filo che io metto sempre in basso ok al solito qui abbiamo un tasto per rispondere al microfono oppure mettere play e pausa non c'è il tasto del volume la comodità appunto la particolarità appunto come vi ho detto è che sono ergonomiche sono comodissime e sono molto più comode delle altre e costano veramente di meno quindi ancora una volta i ragazzi di Ludo s'hanno colpito all'interno troviamo il sacchettino e i ricambi e niente col classico bigliettino ciao bello ormai dentro c'è benissimo ragazzi io vi lascio il loro profilo Instagram in descrizione il link dei loro prodotti in descrizione in descrizione trovate anche il mio profilo ovviamente Instagram dove posterò al solito le foto e sono delle cuffie ovviamente ragazzi che vi consiglio lo sapete ormai la qualità delle Ludos si sa ma penso che siano veramente le migliori cuffie in-ear presenti sul mercato a livello di qualità prezzo perché a parte per ripeto quello che ho detto nel primo video hanno questa gommina così che è molto più bella più comoda mi piace di più invece quella di classica di plastica c'è anche quella in plastica ma c'è anche quella in spugna e sono costano poco e sono fantastiche devo dire sono trovati tutti molto molto bene quindi in descrizione vi lascio tutti i link vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile in descrizione trovate tutti i link ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti